Sono tornati nella loro casa, la chiesa di San Francesco della Pace in via Savelli, i ceri mezzani, dopo lo smontaggio e conseguente imballaggio avvenuto già all'Emilio Colombo Space di Strasburgo, dopo la mostra al Parlamento europeo per il cinquantesimo anniversario dalla scelta dei ceri quale simbolo della regione Umbria. Una celebrazione che ha avuto grande successo e che ha visto una foltissima delegazione eugubina, tre istituzioni, associazioni e gruppi che hanno seguito l'intero tragitto dall'Umbria sino al nord-est transalpino e fondamentale per la questione logistica organizzativa è stato il ruolo dei tanti volontari coordinati da Matteo Morelli, Francesco Mariucci e Roberto Fofi. Dopo una prima fase organizzativa del carico in gombri e imballaggi, lì sul posto nonostante magari accordi o pianificazioni, poi arrivare al Parlamento europeo, entrare con tutti i passi di sicurezza e le procedure non è così facile, anche perché poi dopo bisogna capire i tragitti, bisogna capire gli ingombri e va fatto sul posto con le difficoltà della lingua che magari non non tutti lì sono abituati, ma questo si supera magari con la pazienza e anche con l'aiuto di persone e gubine lì per lavoro, ma anche provenienti da zone limitrofe. Ogni cero che abbiamo montato e messo sui basamenti ha subito generato un applauso spontaneo, insomma eravamo contenti. A curare il trasporto invece è Riccardo Marchetti che racconta anche un simpatico aneddoto accaduto in terra d'Ultralpe. Abbiamo dormito insieme ai ceri per non lasciarli soli e quindi diciamo al freddo perché era meno 5, meno 6, non mi ricordo quanto. E poi dopo anche ci ha fermato la polizia, hanno voluto guardare, hanno detto che ci sono delle opere d'arte, abbiamo detto, perché sono opere d'arte, no? Allora hanno voluto guardare, insomma hanno aperto i pacchi, ma cosa sono questi pacchi? C'erano i santi, c'erano i ceri, insomma, e poi appena hanno visto queste cose qua ci hanno detto va bene andate, andate perché era una cosa insomma bella anche per loro. Così anche il viaggio si è trasformato in una vera festa per la soddisfazione di istituzioni, amministrazione comunale in primis e associazioni come Università dei Muratori. Un'esperienza molto bella, intanto da un punto di vista, come dire, anche umano, poi per quello che mi riguarda in chiave istituzionale perché comunque abbiamo varcato la soglia del Parlamento europeo. È stata un'operazione da un punto di vista anche logistico abbastanza impegnativa, però io credo che siamo stati tutti ripagati dalla bellissima esperienza e anche dalla grande promozione d'immagine della città dei Cili perché io sto ricevendo riscontri mediatici direi da tutta l'Europa, da tutto il mondo insomma. È importante per quanto è raro perché se poi diventa una cosa frequente l'importanza decade, quindi questo va sottolineato. È stata veramente una bellissima esperienza, come diceva il Sindaco, perché comunque noi abbiamo portato oltre i Cieri che sono il nostro simbolo identitario, prima di tutto abbiamo portato veramente l'eugubinità vera. Cioè si è visto veramente una collaborazione spontanea, perché non c'è stato bisogno di arruolamenti, è stata veramente spontanea, anzi quasi una gara, chi poteva ha dato una mano.